Questo canale contiene i miei personali opinioni, se non siete in grado di farvi una risolta Si sente? Che c'è? Quindi era una cosa buona Però, devastante Funziona per rotondare Che era una cosa buona Stupefatto Mettete like al video se vi è piaciuto Commentate sotto nei commenti Seguitemi anche su Instagram Sul canale Telegram Il dinaro dello svapo E consiglio di non guardare il video Buonasera ragazzi, bentornati Dopo le ferie e un nuovo video del Piedinaro dello svapo Questa sera vi farò vedere una side by side Che a mio parere è molto molto bella E mi è stata gentilmente mandata da Evengift Stiamo parlando della Tech Mode by Kizoku Andiamo a leggere le specifiche Allora, volte di uscita da 1 a 8 Funziona con batterie 18, 6, 50 Ovviamente non integrata E non compresa nella confezione E si ricarica anche con USB-C Anche se io consiglio sempre di caricare la batteria a parte Ma nel caso voi siete in giro Potete caricarla molto velocemente con USB-C Va davvero a 80 Watt È disponibile in vari colori Tra cui il bianco Che lo stiamo andando a vedere Ecco, dentro la nostra scazzola La box bianca è questa qua Ovviamente ci danno anche un cavettino USB-C Per la ricarica rapida La carta garanzia E ovviamente un libretto delle istruzioni Ma ora andiamo a vedere la box Allora, fatta molto molto bene Qui potete vedere l'USB-C per la ricarica rapida La scritta Kizoku Dove andrà messa la batteria Pulsante Fire I due pulsanti per il circuito Qui abbiamo il nostro schermino La tazza è molto molto bella Sotto noi abbiamo il nostro marchio CE TechMod Designed by Kizoku Made in China ovviamente Adesso andiamo a mettere di dentro La nostra batteria Ci basta allentare Il tappino qua sopra Possiamo vedere che qua sotto C'è disegnato un più Quindi il lato positivo della batteria Va in fondo E poi andiamo a richiudere Mi raccomando State attenti Perché deve essere veramente morbido Se no se lo imboccate storto Si rovina il filetto E dopo vi lamentate Che non va più Una volta messa la batteria Andiamo ad accenderla 5 click Kizoku E viene fuori il nostro circuito Ovviamente con la telecamera Non si vede bene Ecco devo tenerla inclinata Purtroppo non posso andare ad abbassare La luminosità dello schermo Però ecco Adesso che è andato quasi in safe Si riesce a vedere bene Abbiamo carica della batteria Durata della svapata Di qua abbiamo i watt E poi qua abbiamo gli ohm della resistenza Possiamo cambiare ovviamente Da un minimo di 5 watt A un massimo di 80 watt E possiamo scegliere fra varie modalità Che voi qui non le potete vedere Ma ve le dico io Allora potete scegliere tra Vari watt mode Vari volt Bypass E controllo della temperatura Con i vari materiali Adesso io vado a montargli sopra un atomizzatore E poi la provo a svapare Allora ragazzi Cosa c'è da dire Partiamo dal lato estetico Dal lato estetico A me piace tantissimo E' veramente un giocattolino Che è molto molto carino Fatto molto bene In mano si tiene bene Secondo me è molto valida Anche la scelta Di aver messo il tasto qua Perché con il pollice Si riesce a premere bene A livello di funzionalità E' molto comoda Comunque le side by side Sono tutte quante molto simili Io posso dire che La tazza è fatta molto bene E come box ha un peso E' un mattoncino piccolino Che però fa piacere tenere in mano Quindi vi da sensazione di solidità in mano Mi piace Mi piace molto Vi da quel giusto grip nelle mani Che ve la fa sentire salda Il circuito E' un circuito proprietario Che funziona bene Come ogni circuito proprietario Ormai adesso funziona bene Non è niente di esorbitante Però L'erogazione è molto valida Se io clicco E questo qui è lag Praticamente E' allineato Con tutti quanti Gli altri circuiti proprietari Ovviamente Non quello Della vapore Perché è superiore A tutti quanti Però E' un circuito Che funziona molto bene Si ricarica Con l'USB-C Il che è Una cosa buona Se abbiamo fretta E magari siamo in macchina A dargli una carica al volo E siamo rimasti a piedi Anche se io consiglio sempre Di caricare In un caricabatteria esterno Per far durare di più le batterie E rovinarle il meno possibile Gli atomizzatori sopra Ci stanno molto molto bene Mi piace anche la forma Che va Verso il fuori E poi Ritorna dritto Con l'atomizzatore E' molto carina Molto carina E io la promuovo Mi piace molto Kizoku ha fatto un altro prodotto Che funziona benissimo Sono molto contento Che me l'hanno mandato Per fare il video Perché credo che questa qua La userò tantissimo Veramente promossissimo Detto questo ragazzi Vi saluto Vi invito a iscrivervi al canale Condividete il video Mettete like se il video vi è piaciuto Commentate sotto nei commenti Mi sono scordato di dirvi Che il pref Sui 50 euro Quindi è veramente Molto economica E secondo me Vale la pena Acquistarla Se vi piace Il genere di box Io come sempre Vi saluto E ci vediamo Quando ci vediamo Ciao a tutti ragazzi E vi auguro Una buona serata La rifaccio Che non mi era piaciuta Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti